E' stato presentato nell'area istituzionale della regione Abruzzo la quarta edizione del premio giornalistico World of Wine 2016 Parole di Vino. L'iniziativa è stata promossa dal Consorzio di Tutela dei Vini con la collaborazione del Centro Estero, delle Camere di Commercio e l'Assessorato Regionale all'Agricoltura per promuovere l'immagine dell'Abruzzo Enoico. Il premio è aperto a tutti coloro che svolgono attività giornalistica in ambito nazionale ed internazionale. In questa edizione sono stati coinvolti anche gli studenti degli istituti alberghieri della regione che rappresentano il più importante anello di congiunzione tra il mondo produttivo e quello della ristorazione di qualità. Le sezioni sono tre, carta stampata, televisione radio e stampa online. Il bando sarà pubblicato a breve sul sito internet del Consorzio di Tutela dei Vini, mentre la cerimonia di premiazione si terrà a Pescara nel mese di ottobre. Tra gli ospiti, presente alla presentazione di oggi, i vincitori della passata edizione, Tinto e Fede, del programma radiofonico De Canter, in onda su Radio 2 Rai. Cine cacine, cacine in duttenone, si dice, no? È abruzzese. Vedi che qualcosa di abruzzese la so dire, no? No, siamo molto legati a questa terra perché non solo è vicina a Roma, ma dal punto di vista enogastronomico è una terra che spinge. Spinge veramente tanto a grandi potenzialità perché noi ci vediamo della genuinità, anzi non ne parliamo troppo perché poi noi, conducendo De Canter su Radio 2, se troppe persone scoprono l'Abruzzo, poi l'Abruzzo non è più incontaminato. Ovviamente è una battuta, vi invitiamo a visitarlo, ad assaggiare le proprie eccellenze enogastronomiche perché attraverso i suoi prodotti si può scoprire una terra unica, ma unica anche per le persone d'Abruzzo. La gente d'Abruzzo è veramente differente. C'è un'amicizia, un'amicizia profonda, Tonino Verna, ma non solo, Gregorio, Gregorio che sta a scanno. C'è un posto dimenticato da Dio dove non ci sono i telefonini, ma direi grazie a Dio. Viva l'Abruzzo, Tinto, De Canter Radio 2. C'è un posto dimenticato da Dio dove non ci sono i telefoni, ma direi grazie a Dio dove non ci sono i telefoni, ma direi grazie a Dio. C'è un posto dimenticato da Dio dove non ci sono i telefoni, ma direi grazie a Dio dove non ci sono i telefoni.